Aggiornamento meteo per mercoledì 9 agosto 2023. Innanzitutto, vorrei invitarti ad iscriverti ed a lasciare un mi piace, grazie. Evoluzione sul comparto euro-mediterraneo per mercoledì 9 agosto. La depressione a carattere freddo che ha interessato i settori centrali ed orientali europei si sposterà ulteriormente verso Levante, risalendo sulla Scandinavia. Nel mentre, in Atlantico si strutturerà una nuova area depressionaria, in iniziale a fondo meridiano. Ciò determinerà l'innesco di un contributo di matrice subtropicale all'anticiclone di natura prevalentemente azzorriana presente sull'Europa mediterranea, con conseguente ritorno del caldo su tali zone. Previsioni meteo in area italiana per mercoledì 9 agosto. Nord. Stabile e soleggiato, salvo lo sviluppo di qualche nube pomeridiana sui settori alpini di nord-est, dove si avranno dei locali ed isolati temporali. Le incudini di tali temporali porteranno locali stratificazioni sulle pianure veneto-friulane. Centro. Bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi con al più il passaggio di qualche blanda stratificazione e la formazione di innocue nubi pomeridiane a ridosso dei rilievi. Sud e isole. Sole prevalente su tutte le zone, salvo le consuete locali nubi pomeridiane sui maggiori rilievi. Temperature massime in lieve aumento nelle pianure interne e soprattutto sul comparto insulare. Minime nel complesso stazionari e o in lieve calo nelle conche interne. Valori ancora leggermente al di sotto delle medie tipiche del periodo. Ventilazione generalmente debole a regime di brezza con locali rinforzi nel pomeriggio lungo le valli e sui litorali. Residue raffiche da nord sul comparto basso adriatico e ionico. Mari da poco mossi a mossi, specie sui bacini meridionali, con moto ondoso in ulteriore attenuazione. Tendenza in area italiana per giovedì 10 agosto e venerdì 11 agosto. Alta pressione in ulteriore rinforzo con l'ingresso di un parziale contributo subtropicale iniziando da ovest. Di conseguenza la giornata di giovedì trascorrerà all'insegna del tempo stabile e soleggiato con temperature massime in progressivo aumento. Possibili addensamenti pomeridiani sui settori alpini occidentali, dove non sono da escludersi dei blandi piovaschi. Temperature in ulteriore aumento da venerdì con bel tempo prevalente, salvo locale e instabilità sull'appennino centrale. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per ricevere le previsioni aggiornate.